Allora, prima di tutto grazie per essere qui, sono l'ultima oggi con un argomento che insomma non è proprio dei più leggeri e a questo proposito ho voluto creare questo mio intervento per lasciarvi qualcosa, so che ci sono stati tanti dubbi, questa estate è stata un'estate calda oltre che per le temperature ma per tutta la questione che ha visto coinvolto Google, Google Analytics e quindi diciamo ho voluto prendere tre impegni con voi, va bene questa sono io, saltiamo. La verità, vorrei portarvi il vero, in che senso vi riporterò quello che è stato detto dalle autorità garanti, quindi non sono mie opinioni personali, quelle ovviamente le potrò condividere con voi, però sono partita da dati, quello che abbiamo, quello che c'è oggi. La chiarezza, proprio perché è un argomento difficile, ho cercato di renderlo molto potabile per voi affinché possiate avere almeno qualche dubbio in meno. E poi l'impartibilità, perché purtroppo in questi mesi ho visto con dispiacere molti miei colleghi che hanno parteggiato per un determinato strumento piuttosto che per un altro o per togliamo tutto, non ho interessi, non mi interessa uno strumento o un altro, non vengo pagata e non faccio sponsorizzazioni per nessuno. Quello che mi interessa è la legalità e passarvi dei concetti. Per fare questo, quindi partiremo da Google Analytics, ho voluto riavvolgere il nastro, perché noi abbiamo la memoria corta. Infatti il tutto non nasce quest'estate, ma nasce tanto tempo fa, come iniziano le favole. No, questo è un incubo però, non è una favola. Infatti la Cicogna ci porta nel 2020 questa bella pronuncia. Come vedete la questione nasce nel 2020 perché il nostro avvocato Schrems ha fatto in modo che cadesse la Privacy Shield, che si occupava appunto di gestire le relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti per il trasferimento dei dati. Poi cos'è successo? Dopo il 2020, ok va bene, è venuta meno la Privacy Shield, sì ci sono le clausole contrattuali standard, però si viveva tutti tranquilli. Il nostro garante privacy emana queste linee guida sui cookie il 10 giugno 2021 e interviene su cookie banner, sullo scroll, cookie wall e si lancia in un'affermazione alquanto temeraria secondo me. Ci dice che i cookie analytics possono essere preparati ai cookie tecnici, cioè addirittura Google Analytics può essere cookie tecnico. Quando? Quando non c'è una diretta individuazione dell'interessato, ebbè noi avevamo l'IP anonimizzato, ci siamo. Quando lo strumento è limitato appunto a una statistica aggregata, dico io, anonimizzo l'IP, sono a posto, sono sereno. E quando lo strumento non combina i dati, non li incrocia con altri dati e li trasmette a partner terzi. Qui già c'era qualcosa che non doveva tornare, però va bene, tutti contenti, abbiamo fatto consulenze, abbiamo portato questo verbo in giro, se non che succede qualcosa. Da gennaio, febbraio 2022 iniziano ad agitarsi le acque. Ovviamente non dall'Italia, non parte dall'Italia, parte dall'Austria, ma non so se lo sapete, il garante francese è sempre molto attivo. È quello che produce di più, addirittura ha anche dei software gratuiti per la DPA, ci ha dato tanti strumenti, quindi è molto molto attivo. interviene sulla scia del garante austriaco che però condanna solamente ma non entra nel merito, lui entra nel merito e entra gamba tesa su GA3, su Google Analytics. Allora GA4 era ancora in versione beta, quindi non c'era, non era ancora completato. E cosa ci dice? In realtà Google fa tante cose. Nel suo lungo testo ci dice raccoglie le query dei nostri utenti, tutte le informazioni del browser, sistemi operativi, lingua. Ricordiamoci che sul nostro sito non c'è solo Google Analytics, ci sono tante altre cose di Google. Memorizza i cookie, ovviamente, ma queste informazioni le trasmette ai server di Google Analytics negli Stati Uniti. e perché questo? Perché ottiene dei dettagli più accurati e noi non ce ne accorgiamo. E quindi può, siccome ottiene dei dati anche in sessioni diverse, li incrocia. Quindi il CNIL si pone le questioni, le studia, non si ferma a dire, ah, è un cookie tecnico. No, va a fondo. E cosa chiede il CNIL? Google ci dovrebbe dire come fa, quali mezzi usa per garantire questa anonimizzazione. Google non ha mai risposto. Il CNIL gliel'ha chiesto. Ma non solo. Dice, quali sono le misure che Google Analytics inserisce in un sito web che consentono? Qui parla di due attori importanti. Uno dei due siete voi, i gestori del sito web. e l'interessato. Come si rapportano? Chi gestisce il sito e l'interessato? Come lo identifico? E poi ancora, quando avviene l'anonimizzazione dell'IP? Perché non si è capito? Avviene in un secondo momento? Avviene subito? Google non ha risposto. E quindi, ecco l'altro attore della nostra storia. Noib. Noib è un'associazione capitanata appunto dall'avvocato il quale ha, diciamo, presentato 101 reclami. Ben 101 reclami. Intanzi a tutte le autorità garanti europee. E' ovvio che questi 101 reclami non è che Noib odia a morte Google Analytics. E', diciamo, la punta di un iceberg. Perché non c'è solo Google. Ok? Ed ecco che il nostro garante si è svegliato. Anche lui ha avuto da ridire. Però l'ha fatto a modo suo. Ha monito il 9 giugno del 2022 una società che utilizzava Google Analytics riconoscendo appunto che Google Analytics in quel caso era ancora, non era GA4, era Universal. E la monisce proprio perché Google Analytics non garantisce l'anonimizzazione e quindi il mancato trasferimento dei dati. In particolare, questa volta, il garante italiano scende nel dettaglio e mi dice che l'anonimizzazione dell'indirizzo IP non è sufficiente. Quindi ha fatto un po' di indagini. Non è adeguata la cifratura. Ok? Perché dice il titolare dovrebbe capire, no? Questi dati. Però anche se c'è una piccola distonia perché se è anonimizzato non c'è la cifratura. Quindi va bene. E poi riconosce che Google effettivamente ha un'enorme quantità di dati. e poi ancora l'accento su questo rapporto tra Google in America e in Stati Uniti e Google Irlanda. Perché non so se vi ricordate quando ci fu la questione nel 2020 della caduta della Privacy Shield molte aziende americane, con Meta per primo, aprirono delle sedi in Irlanda in qualità di responsabili del trattamento. Però questo ovviamente se poi il stato viene trasferito in America non si capisce perché ci sia questo giro. E come si è mosso nei confronti di questa società il garante? L'ha solo ammonita. Cioè non gli ha combinato una sanzione rispetto ai colleghi europei. Perché? Perché ha riconosciuto un elemento soggettivo della colpa. quindi noi italiani siamo più... diciamo andiamo a fondo sulle nature giuridiche non c'è dolo. Cioè il povero titolare non sapeva. Lui aveva quel mezzo, ha adottato quel mezzo. Quindi l'ha ammonito e gli ha dato un periodo di adeguamento dei 90 giorni famosi ai quali poi si sono un po' adeguati tutti quanti. E poi adottare ulteriori misure tecniche e organizzative. Qui ancora una volta si rimbalza addosso al titolare del trattamento la responsabilità di trovare secondo i principi generali della practice by design e default le misure tecniche e organizzative. Ma non ci vengono dette quali. Aspetta. Ok. Allora. Quindi se volessimo tirare le somme. Google Analytics Universal. Non si può più usare? No. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Aveva dato 90 giorni quindi non si può più usare. Quindi chi ce l'ha passasse al 24. Novità o era già tutto scritto? No. Questo era già tutto scritto dal 2020. E nessuno ha fatto nulla. Comunque nessuno si è posto il problema. Bisognerebbe capire come mai questo problema è sorto a febbraio o gennaio del 2022. Ora, l'altra riflessione è che questo riguarda solo la mancanza di un accordo? C'è qualcos'altro sotto? Ci sono magari dei disegni più grandi di noi che abbiano colpito Google e magari hanno lasciato stare altri soggetti, altri partner americani? Queste sono riflessioni che dobbiamo fare. Dopodiché è arrivato lui. Io la Danimarca la conoscevo per questi bellissimi biscotti ma il garante danese ha sentito la necessità di dire la sua. Nessuno gli ha chiesto, poverino, nessuno gli ha fatto un interpello. Non è stato citato da Noib. Volontariamente ha rilasciato queste facche. Le ha rilasciate sotto forma ovviamente di domanda alla quale ha dato delle risposte. Tra l'altro ha parlato di GA4. Quindi è andato un po' più in là. E quindi la prima domanda che fa è questa. È possibile configurarlo Google Analytics in modo tale che questi dati non vengano trasferiti? Perché io ne ho sentite tante, soprattutto su chi rivende i servizi di Google Analytics. Dicono ora lo impostiamo benissimo, lo settiamo in maniera eccezionale e non trasferisce più niente. Il garante danese dice ma è proprio così? È davvero così? E risponde da solo alla sua domanda non ci risulta che ciò sia possibile. Non siamo a conoscenza di questo cambiamento dell'assesso tecnico. Quindi per noi Google Analytics trasferisce i dati. Non abbiamo novità in tal senso. L'altra domanda che si pone è questa. Ma possiamo non raccogliere dati personali, quindi andare solo sui dati aggregati? Anche qui dice ok, prendiamo atto che con GA4 i titolari possono attraverso ovviamente voi che siete gli attori, i protagonisti che mettete mano possono fare funzioni in più. Sono state implementate delle funzioni in più. però non si sente di dare una risposta certa perché viene rimandato alla volontà di una persona di trattare il dato aggregato o meno. Quindi come vedete la situazione non è così chiara. L'autorità danese poi continua e dà questi due suggerimenti. dice utilizzare misure integrative quindi ulteriori misure integrative di anonimizzazione quindi batte sull'anonimizzazione e poi una cosa che secondo me in tanti dimenticano o non hanno anche considerato l'analisi del rischio. Che cos'è l'analisi del rischio? È un qualcosa che dovrebbe fare il titolare del trattamento con un consulente legale e con l'ausilio di voi di voi che siete diciamo i tecnici del sito per analizzare i determinati flussi e quindi capire se ci può essere un rischio di data bridge rischio di perdita di quel dato e quindi implementare quelle misure tecniche di sicurezza di cui parlava prima il nostro garante. l'analisi del rischio associata alla DPA quindi alla valutazione di impatto dovrebbero essere misure da adeguare in un contesto dove c'è un trasferimento del dato extra way. Sicuramente questo è un ottimo consiglio. Quindi inoltre affermo una cosa interessante non basta il semplice consenso all'uso di GA. Perché questa frase? Ho sentito negli ultimi due mesi molti miei colleghi dibattere sul consenso non so se voi ne avete seguito sui vari social c'è chi diceva ma io chiedo il consenso perché c'è la norma del GDPR che dice quando c'è il trasferimento di dati extra way si può chiedere il consenso al trasferimento del suo dato è una norma eccezionale infatti la norma parla di una volta non può essere ripetuto alcuni colleghi dicevano no ma non dobbiamo essere talebani non dobbiamo interpretarlo in maniera restrittiva sì è vero il regolamento privacy è una norma è un regolamento di principi però se una norma è un'eccezione non possiamo farla diventare regola infatti il garante danese lo ricorda non basta il semplice consenso anche perché bisognerebbe poi immaginate già il banner dei cookie che bello insomma specifico pensate se dobbiamo specificare anche questo se ci dà il consenso ai cookie analitici con google analytics allora il tuo dato andrà non credo sia il caso e poi ancora non sono sufficienti le dichiarazioni di google che ha fatto in cui ha dichiarato di non aver mai ricevuto richiesta da parte delle autorità statunitense di accesso ai dati quindi dice non basta che tu me lo dichiari tu puoi dichiarare qualsiasi cosa non è garanzia sufficiente allora vediamo un po' i falsi allarmismi e delle certezze che sono state date in questi mesi che secondo me non sono fondate ho sentito colleghi chiudiamo tutto un dpo di un'azienda nostra stavamo facendo l'adeguamento privacy che voleva obbligare il cliente a togliere google analytics a togliere tutte le funzioni di google abbiamo detto ma no non possiamo fare una cosa del genere cioè capisci l'impatto su un'attività questo era un l'altro quindi attenzione non è chiudiamo tutto e tutti gli allarmismi si sono veri ma allora se sei un dpo o comunque un consulente sediamoci iniziamo a vedere il flusso dei dati come li conservi perché poi ci facciamo i problemi di google analytics magari non hanno mai fatto l'adeguamento privacy dell'azienda cioè non hanno neanche uno straccio di nomina da nessuna parte non hanno manco il registro dei trattamenti quindi altro che trasferimento dei dati e certezze infondate google analytics GA4 rispetta il GDPR questo non ve lo può dire nessuno ieri ci ha chiamato un cliente che ha detto che ha trovato un dpo che certifica che GA4 è compliant io lo vorrei vedere perché è più intelligente di tutti i garanti privacy no nessuno lo può dire è un ottimo strumento lo si usa come si stanno usando tanti altri strumenti ma dire che rispetta il GDPR no non ve lo può dire nessuno lo stesso se settiamo correttamente siamo a norma non basta l'abbiamo visto non basta ma non perché noi non sappiamo settarlo perché non dipende da noi e poi ancora non basta chiedere il consenso lo puoi chiedere una volta perché è un consenso eccezionale non lo puoi chiedere ogni volta e poi il fatto che tanti hanno detto il garante italiano non ha combinato una sanzione quindi vabbè facciamolo tanto non rischiamo nulla è un po' quello che sento dire da tanti titolari del trattamento io non procedo con l'adeguamento privacy perché tanti controlli sono a campione tanto devono venire a prendere me ma che vuoi che sia lo fanno tutti va bene quindi dobbiamo cambiare un po' la mentalità secondo me sicuramente per per andare meglio qual è l'orizzonte futuro allora a marzo del 2022 a me piace oggi la storia mi sto tormentando Biden e la nostra Ursula hanno fatto un accordo di principio con il quale prendevano un impegno a punto a un accordo che tra la guerra Russia Ucraina il caro energia eccetera non credo che nei loro pensieri ci sia questo problema il 7 ottobre Biden ha firmato questo executive order lo aspettavamo con tanta trepidazione è arrivato sostanzialmente cosa dice lui si rende disponibile ad aprire le trattative per una nuova versione della privacy shield che sia più insomma che fornisca più garanzie e garantisce l'esercizio dei poteri dell'autorità americana in modo necessario e proporzionato quindi limitando l'accesso o le richieste garantisce livelli più alti di sicurezza per i dati degli interessati e poi questa istituzione di un nuovo tribunale che dovrebbe poi appunto essere competente e stabilire violazioni e adempimenti è un lungo percorso ovviamente dal 7 ottobre non abbiamo avuto più notizie tutto tace e ora la palla è stata lanciata alla UE e quindi bisognerà vedere salvo impugnazioni purtroppo perché Noib il nostro amico è già sul piede di guerra ha già fatto sapere lui che difficilmente questo executive order soddisferà le tutele previste dalla normativa che secondo lui nulla è cambiato perché il potere di ispezione delle autorità americane è forte quindi comunque non verrà marginato e poi incide anche su questo nuovo tribunale che secondo lui non garantirà una parità o comunque un'imparzialità ma sembra un organo esecutivo degli Stati Uniti del governo quali sono le alternative a Google allora ci rimane che magari nel mentre vediamo cosa possiamo fare allora sicuramente la soluzione custom bellissima cioè io mi faccio un'infrastruttura di analitica tutto da me eh sì bellissimo eh la soluzione stupenda peccato che ha dei costi molto elevati chi è che se la può permettere e poi non solo consideriamo sempre quell'analisi del rischio la vulnerabilità dei sistemi quindi non solo devo investire per creare tutta un'infrastruttura ma poi la devo abbinare a un'infrastruttura di sicurezza tecnica informatica quindi attenzione potremmo appoggiarci a dei software su hosting proprietario dove mettere i dati oppure software alternativi che abbiano server in Europa e a questo proposito alcuni di voi mi hanno chiesto prima dell'evento di parlare sono andate indietro scusate di parlare di lui mi avete richiesto dice ma Matomo vedo che tu sei contento ho detto ok parliamo di lui se ne è tanto parlato vediamo cosa fa Matomo allora Matomo è una piattaforma cookie less che diciamo questa soluzione si andrà cioè di non trattare pochi cookie di terze parti è già così quindi permette di attivare il tracciamento cookie less quindi solo cookie di prime parti e open source come wordpress quindi diciamo ha anche facilità di ingresso poi dà accesso ai dati grezzi come dicevamo prima come quello che ha contestato il CNIL quindi io posso consultare i dati grezzi e poi se voglio posso effettuare varie operazioni e quindi andare più o meno nel profondo delle mie ricerche può essere automatizzato e poi può essere anche esteso perché ha anche due versioni con dei plug-in sia gratuiti che in versione e poi Matomo si dichiara badate bene le mie parole si dichiara io non lo dichiaro né lo dichiarerei mai si dichiara GDPR e compia ok se la sua dichiarazione di intenti perché dice che garantisce l'anonimizzazione dei dati da l'opt-out ma questo lo faceva anche Google Analytics appunto tratta cookie di prima parte di default proprio perché è cutless le persone possono avere traccia di tutti i dati che sono stati diciamo raccolti dalla piattaforma può cancellare immediatamente i dati vi ricordo Federico Leva il nostro amico che ci ha tenuto compagnia quest'estate e poi avete avuto problemi con il caro Federico e appunto nell'anonimizzazione dell'IP addirittura garantisce una personalizzazione cioè il titolare del trattamento con l'usilio dei tecnici può anche scegliere quanto andare in profondità nell'anonimizzazione e poi ovviamente i dati rimangono in Europa in un paese addirittura a propria scelta quindi sembrerebbe wow poi nella nella realtà non non lo so devo dire la verità perché a questo punto cosa dovremmo fare ogni volta che utilizziamo uno strumento vedere bene oltre le loro policy ma tutta la documentazione tutta la loro documentazione di misure tecniche e informatiche vedete che ritorna sempre cioè dobbiamo vedere prima le loro capire come trattano il dato come faccio quell'anonimizzazione come ti permetto addirittura di personalizzarla e poi questo è un punto che volevo trattare perché secondo me è molto importante per voi la vostra responsabilità perché è sottovalutata no attenzione attenzione io nei miei contratti metto sempre l'esonero di responsabilità per voi mi ha dato la comitata allora il 20 aprile di quest'anno ho avuto il piacere di tormentare il garante privacy italiano e gli ho fatto un po' di domandine e gli ho fatto queste domande allora voi siete responsabili del trattamento solitamente perché nel momento in cui trattate i dati degli utenti del vostro cliente quindi i dati di chi va sul sito internet i dati di chi va sugli account social eccetera voi state trattando dati per conto di qualcuno del titolare la natura è contrattuale del vostro rapporto quindi occorre un contratto un contratto principale che stabilisca termini della fornitura il contratto secondario collegato che è la nomina responsabile e poi c'è quest'altro soggetto che spesso viene dimenticato il subresponsabile perché spesso voi non riuscite a fare magari tutto il lavoro lo affidate a qualcuno diciamo che conosce lui diventa subresponsabile il garante cosa ha detto alle mie domande mi ha detto che la prima responsabilità è il fatto di non essere nominati quindi voi dovete farvi nominare e se non vi nominano autonominatevi perché è importante perché se no sarete responsabili in qualità di titolare perché non avete alcun titolo per trattare quei dati quindi mi raccomando secondo qui è la responsabilità non avete la responsabilità legale ma attenzione avete la responsabilità tecnica quindi nel momento in cui voi consigliate uno strumento al vostro cliente voi dovete avere tutte le nozioni di quello strumento dovete essere capaci di dire fa così 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 poi sceglierà il titolare ma voi avete la responsabilità tecnica quindi attenzione questa non ve la può togliere nessuno neanche il miglior contratto del mondo quindi io ho finito prima perché così lascio spazio alle domande sono brava ho lasciato un po' di tempo grazie una cortezza domande non pareri legali perché Brunella ha il suo studio se avete delle domande avete bisogno di pareri legali perché è già successo e cortesemente una domanda a testa grazie a chi diamo un microfono lui ce l'ha con i DPO sì torno un po' sull'argomento nella slide prima di Matomo si è parlato di server in Europa Google di fatto ha server in Irlanda bravo e quindi allo stesso tempo mi chiedo se io attivo il servizio di Google dopo l'accettazione dei cookie per finalità analitiche o di marketing e dico l'utente che sta accettando di utilizzare quel servizio e che utilizza server in Europa no è ottima la tua osservazione infatti qual è il problema il fatto che sia in Europa ci deve porre però un campanello d'allarme ecco perché va sempre studiato lo strumento perché come dice il garante italiano guardare i rapporti perché che tu hai la sede in Europa ma la casa madre in America è come se non hai fatto nulla è europea sì a meno che a meno che ci sono degli strumenti americani perché non dobbiamo condannarli tutti ci sono degli strumenti americani che comunque sono validi che rispettano le clausole standard quindi comunque hanno implementato le misure di sicurezza e quindi comunque rispettano alcuni criteri noi abbiamo iniziato noi abbiamo iniziato un lavoro su mini chat dove un'azienda grosta con il suo dpo ha chiesto il nostro aiuto e lavoreremo su mini chat perché loro vogliono usare questo strumento cosa andremo a vedere stiamo sviscerando tutto andiamo a vedere tutto quello che è stato fatto dal 2020 ad oggi per implementare le misure di sicurezza io avrei un milione di cose da dire ma ovviamente non c'è il tempo posto che anche sentendo i pareri specializzati incluso quello del garante non ci si capisce niente io ho visto un'intervista a Guido Scorza è riuscito a contraddirsi tre volte nel giro di un minuto dicendo tutto il contrario di tutto c'è un aspetto a questo punto devo fare una scelta fra le mille cose che si possono dire io non sono assolutamente d'accordo sull'interpretazione nel fatto che la responsabilità di approfondire le questioni tecniche sia del webmaster perché se ha difficoltà il garante francese e ci ha messo un anno per fare un'istruttoria per capire dove finissero i dati di Google non si può pensare che questa responsabilità ce l'abbia un webmaster perché questo problema noi adesso qua è stato parlato soltanto di Google Analytics ma lei sa meglio di me che si sta tirando in ballo monitora piatti in ballo Google Fonts non soltanto i servizi di Google guarda caso dimenticandosi di un sacco di altri servizi per cui c'è un intento ideologico e il tutto è basato sul terrorismo che questa legge assurda che è la GDPR assurda non dal punto di vista del principio che è sacrosanto ma del modo in cui essa viene applicata secondo me bisogna uscire dal la domanda che io faccio è siamo così sicuri che la responsabilità sia del webmaster cioè io come posso avere l'autorità di capire dove vanno a finire i dati di questo o quel servizio no no questo è corretto e ti ringrazio diamoci del tu ti ringrazio di questa precisazione perché poi ho dovuto un po' chiudere per lasciare spazio a voi la responsabilità tecnica non è quella che voi dovete capire come avviene l'anonimizzazione giustamente neanche il client l'ha capito perché Google non ha risposto quello che dovete cioè il vostro compito è quello che comunque voi sapete metterci le mani e magari andare a spiegare al cliente di dire guarda c'è questa questione io te lo setto come lo posso fare però questo è